Bella a tutti da Borkmods, eccoci qua in questa nuova gara, questa gara è stata creata da Yuka E teoricamente la Krieger dovrebbe volare, perché si chiama Flining Krieger Krieger, andiamo? Per i push, per i push E poi ho letto nella descrizione che ci sono questi megatubi, vediamo un po' Andiamo? Vediamo che carerità è Vorrebbe essere stante, oh mio dio Oh mio dio che spettacolo regà Rimaniamo così? No, stiamo cascando Oh è tutto ok? Stiamo cascando? Oh mio dio, ci siamo Il check? Dov'è il check regà? Eccolo qui, eccolo qui Oh mio dio che spettacolo di gara, aspettate che mi spara una bella miniatura Wow, stupenda regà Andiamo? Belli veloci, praticamente bisogna usare la stessa tecnica del freno E' solo che con il turbo dobbiamo impennare Eh, qui dobbiamo impennare di più regà Respondiamo, respondiamo Anzi, sembra pure più difficile qui Intanto siamo ancora primeri? Sì sì Andiamo, andiamo Belli veloci Ok, più alti Troppo alti No Va bene, anzi siamo ancora bassi Secondo me non ci arrivo Eh, lo sapevo regà Bisogna stare leggermente più alti Però bisogna fare attenzione a non toccare con il tetuccio regà Andiamo Che tubo strano regà? E' doppiato perché si vede Un turbo va avanti, uno va indietro Troppo alti Troppo alti però No, 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 regà Respondiamo, respondiamo Dobbiamo stare alti Però non dobbiamo toccare Se no vedete che succede Non ce la facciamo Ok Conciutati No, bassi regà Sapete? Oppure vabbè No regà, non ci capisco niente Infatti io il primo turbo Cioè il primo tubo Non so come l'ho fatto A fortuna regà E ora non riesco a fare questo Che sembra pure più facile Perché alla fine dobbiamo attaccare solo un wall raid Ok Un po' più alto Potrebbe andare bene questo Sì Sì, 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 sì L'abbiamo attaccato Qui cos'è? Così Ok, ok Ci siamo Due minuti Di carerita Gara Veramente fantastica Adesso per verticale? Sì, sì Andiamo No, no, no Dove rigirare? Sì Ci dobbiamo rigirare qua E dove dove dobbiamo andare? Che non ho visto regà Non lo so Allora Appena ci mettiamo dritti qua Facciamo così Poi giriamo la macchina così Sì Sì, sì, sì Va bene Però seguiamo Che gara strana Però fantastica Oh mio Dio No, no, no Non devo toccare niente qui Pensavo che mi dovevo rigirare Invece no È qui Cosa dobbiamo fare? Aspettate che adesso vediamo Chi è che sta arrivando? Lorenzo? Questo bisogna fare qui Dove siamo? Ah, eccolo là il check Ce la facciamo? Ce la facciamo, regà Dove atterriamo? No Potrebbe andare bene Sì Non esplodere Ok, ok Ci siamo Che parte strana questa Però seguiamo Vediamo cosa abbiamo qui Wow, regà Gara veramente allucinante Ok Ci siamo Ci siamo pure qui Ci siamo Qui pure ha bisogno volare Vola, 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 sui Vola, 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 sui No No, regà Non ce l'abbiamo fatta Aspettate Si può fare pure così? Non credo, regà Sì che si può, invece Però adesso ci riprochiamo In modo regolare Vediamo se ce la facciamo Anche perché il secondo è l'Ori Non tocco l'ora in su Ok Sali, 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 sali No Non toccare Oh, regà Ce l'ho fatta Mamma mia che gara Veramente fantastica Adesso facciamo un'altra gara Sempre dello stesso creatore Ok, seconda gara Questa gara si chiama Alternative Ed è sempre Ed è sempre Dello stesso creatore Yuka Vediamo un po' Che corrida Già vedo Che bisogna girare Ci sono delle frecce Ho lasciato la scia No, regà Io ho preso XA21 Ma La Krieger È meglio Più che altro Fatemi passare in tempo Ok Sono andato Di qua No, regà Mi trollano Mi trollano Mi trollano Mi trollano Siamo primeri Per ora No, regà C'è la scia C'è la scia Moriamo Lo dico Ok E la prima gara È andata bene E' andata bene Questa Con la scia Aiuto Aiuto Siamo vivi Solo io e Jovi Oh, cos'è Walleride Ok C'è questa qui Andiamo, andiamo Belli veloci Oh, e lei Ci siamo Guardalo, Jovi Quanto cuore E qui cos'è Oh, mia Dio No, Jovi Te Da questa parte Va Ok Siamo vivi Proseguiamo Ho messo sempre un giro Jovi Dove sei? No No, regà Che è successo? Ah, zitti 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 Non mi tamponate Regà Non ho capito Cos'è successo Dai Che peccato Si è buggata leggermente Però ancora ci siamo State tranquilli Ok Ci siamo Ci siamo Meno male che non siamo respawnati Abbiamo qualche possibilità Di Oddio Guardati che caro Bellissimo E qui ci scontriamo Mio Dio Siamo vivi Siamo vivi Ok Siamo vivi pure qua Dobbiamo impennare leggermente Lì Comunque Giovi Giovi è rimasto trollato X Leone Primero E secondo Giuseppe Chianesi Andiamo E anche il terzo Bugatti Dobbiamo recuperare Da di quanto Corone Ok Che disgrazia Ragazzi Rapido 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 Vedevo uscire pure più veloce Ho frenato leggermente Qualcuno trollato Ok Giuseppe Chianesi Con l'XA21 Eh regà L'XA21 Ha qualche problemino In questa gara Oh Non c'è il boost Però ce la facciamo Oh mio Dio Oh mio Dio Qua ci dobbiamo appoggiare Sì E siamo vivi Siamo vivi Secondi Wow regà Qualcuno è rimasto trollato Allora Andiamo Ah ma adesso è tipo Contromano Oh mio Dio Proseguiamo Comunque E' veramente bella Questa gara Fantastico Bello per questo tubo Qui regà Cos'è? No no Non è un wallride Credevo che doveva andare Tipo sotto sopra Invece no Primeri Cos'è successo? Non lo so Comunque Gara Fantastica Meravigliosa Ok Però se vogliamo Tranquillamente Oh Oh Che effetto ottico Pensavo che era andato fuori dal tubo Invece dovevamo andare Dentro Ok Non ho notato La spirale qui Oh Sempre di qua Sì Ok Credo che siamo vivi Sapete? Sì sì Mamma mia Gara veramente fantastica Stanno arrivando pure gli altri A due secondi di distacco Ce li ho Quindi XA21 Per favore Non farmi scherzi E qui c'è il traguardo Wow Abbiamo vinto per questa carerita Raga Olè Prossima gara Ok Terza gara Guardati che spettacolo di partenza Oh mio Dio Andiamo? Andiamo andiamo Belli veloci Ok Che se sono Raga ho lasciato la scia Era solo per il Wagnerito Questa gara E qui muoio Ve lo dico Muoio Sono morto Sono morto Sono morto Sono vivo Sono morto Mamma mia Siamo vivi Siamo vivi Che sta succedendo qui? Ok Proseguiamo Oh mio Dio Meno male Oh raga Ma che sta succedendo oggi? Non mi chiedete niente per favore Scia 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 Sui Scia 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 Vieni qua Dove 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 dove? Oh sì Sì raga Ho superato tutto Non ciò io credo Lì bisogna fare un wall ride Sì sì Eccola scia raga Rimaniamo trollati Ve lo dico Dai veloce 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 Le spawn Ok Guardate che bello Il mio Wagnerito Cromato Con la rata F1 Però raga ho posto a scia Ok Teoricamente Ce la possiamo fare Teoricamente Giuseppe Chiani Sei trollato Siamo vivi 14 Simele Ricamare Ce la facciamo recuperare E purtroppo Siamo rimasti Super super trollati Ok Qua c'è qualcuno Vediamo se riusciamo Cosa Cosa Non mi chiede niente Stavo dicendo Almeno un po' Odio E' avanti e indietro Face to face Qui Ok Frena 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 Meno male che ha messo le frecce Se non andavamo dritti Volecissimo Dai nessuno che se trolla qui Ma nessuno Nessuno Uh mi trollo io qui eh Quarti Dimmi che sei il terzo Te Second Primo No raga aspettate Non credo Sì perché sono rimasti tutti trollati qua Perché qui è face to face Cazzo Sì qua come fanno Lo sapevo io Ecco perché ero primero raga Non lo so Se sono ancora primero eh Vediamo No raga Non credo che ero primero Però qui adesso è face to face Non ci staccavi niente Ok Ok Odio Odio raga va bene Odio qui Guardate che gara estremo Questa era da fare Senza collisioni eh Ok Gente che scivola Ma che siamo vivi Uh Sì Però siamo quinti Ciò io crede No Vediamo Se si può ricurare qualcos'altro Ma non credo Sarà veramente Durante Noi andiamo C'è un quarto lì Aspettate Vieni qua un quarto Due scappi Dritti Spero di sì Ok Wow Bellissimo Questi coppi Però seguiamo Che sta combinati Non metrò Quarti 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 Ok Eh però Come facciamo La scia La scia Aiutiamoci con la scia Sui La scia Non trolla Oh mio dio Sono entrato per miracolo Marsuino C'è la macchina Stocca Non modificata E quanto corre Ok Chi era lontato Per prendere un po' di scia Credo eh Ti raccomando Sui Per favore Ok Siamo vivi Siamo vivi Sempre quarti Un po' di un miracoloso Raga Mi piacerebbe Scia 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 Ok Sta arrivando qualcuno Ma questi escono da qua Contromano Quindi Se trolliamo Qualcuno No No raga E mo Eh Non ce la facciamo Non ce la facciamo Sì sì Aspettate 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 Ok Ok Andiamo Eh raga In questa cara Siamo rimasti Leggermente trollati Ma non fa niente Che era fantastica Prendiamo il check Raga Ok Aiuto Saliamo su Ancora su E non è trollato Terzo Raga un po' Oddio Ed è uscito fuori Mario Bros è rimasto trollato Sì Gianni No Addio podio Addio podio No 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 Zitti 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 Meno male che ci siamo rigirati così Se adesso è face to face Ecco perché Allora Pure primera Pure primera Ci possiamo Permettere Ok Secondi No così Ok Almeno il check Il check Il check Ok Andiamo Chi è primo Xorenzo Mythic Chi poteva essere Mio Dio Sera No La mia seconda posizione Sei ciao No 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 Non mi trolla Almeno il podio È nostro Sì 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 È nostro È nostro Mamma mia che caro Allucinante Andiamo qui Wow bella questa parte E adesso Prendiamo un po' più Ed è busta Riusciamo a superarlo Eh ma non credo Secondi però Perché siamo più vicini al check Perché il secondo Lo vedo qui Ed è bugatti Sì sì Andiamo Rapido 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 Sui Quanto manca Ah no raga C'è il traguardo Non l'avevo visto Però Devo dire Che il podio Va più che bene Sono veramente contento Sono contento anche Di questa seconda posizione Così a caso Che è rimasto trollato Poveretto Andiamo Oh il traguardo Eh Erga Erga Ah ok ok Dai Come si conclude No 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 Aspettate 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 No Sì No Regà come si conclude Sta gara Non ce l'ho io credo Non l'ha messo il check Sta arrivando Regà No E vabbè Terzi Va bene così Comunque sia Se vi sono piaciute Queste tre gare estreme Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate al mio secondo canale Big Pork E nel mio terzo canale One Pork E noi Ci becchiamo Al prossimo video Bella Vabbone Vabbiamo Vabbiamo